Il principe Harry è stato scherzosamente fermato da sua moglie Meghan Markle durante una chiamata Zoom con il Commonwealth Trust, dopo aver scherzato sulla sua vecchiaia. Meghan Markle ha detto scherzosamente a suo marito il principe Harry devi smetterla, dopo aver fatto un'altra battuta sulla sua età. Il duca e la duchessa del Sussex avevano condotto una chiamata Zoom con il Queen's Commonwealth Trust lo scorso agosto, quando il principe Harry aveva scherzato dicendo che era troppo vecchio per utilizzare le piattaforme di social media. Il principe Harry ha festeggiato mercoledì il suo 37esimo compleanno, trascorrendo il giorno speciale con la sua famiglia in California. Parlando del momento divertente, l'esperta reale Rachel Bowie ha detto al podcast Royale Obsessed. Se potessi dargli uno schiaffo sul polso per questo, lo farei, proprio come ha fatto Meghan verbalmente. È come smettila, non puoi continuare a dirlo. La co-conduttrice Roberta Fiorito ha continuato, molto educatamente, ma forse dopo è stata seria, ho 40 anni. Lui aveva 35 anni al momento di questo, quindi lei ovviamente ne aveva 38 o 39 ma comunque, dai Harry. Non sei mai troppo vecchio. Meghan e Harry si erano presentati insieme tramite Zoom dalla loro casa di Montecito lo scorso agosto. Nonostante si siano dimessi dai loro ruoli di reali anziani, rimangono presidente e vicepresidente del Queens Commonwealth Trust. In una conversazione sul ruolo di internet e sulla capacità delle nuove generazioni di apportare un cambiamento positivo attraverso il mondo online. Il principe Harry ha dichiarato, adoro il fatto che anche voi siate così ben connessi. Ecco perché è stata creata questa piattaforma, per legarvi insieme. Per usare quel pensiero, quella consapevolezza, quella consapevolezza di voi stessi che dovete essere in grado di rendere il mondo un posto migliore. Dico tu, voglio includerci, ma mi sento già troppo vecchio. Al che Meghan ha risposto, ridendo, devi smetterla. Non siamo troppo vecchi.